Buongiorno dalla redazione del DG della mobilità. Al via i lavori per completare la ristrutturazione del collegamento tra la fermata piramide della Metro B e la stazione ferroviaria Ostiense. Sino al prossimo 5 maggio non saranno disponibili gli accessi da via delle cave erdiatine e il collegamento tra le banchine di partenza e arrivo dei treni e il binario 1 della stazione Metro Mare. Per accedere e uscire dalla stazione piramide si potranno utilizzare gli accessi di piazzale Ostiense. Le altre notizie. Un collegamento temporaneo tra Borgo di Cesano e via Palatucci è il percorso della navetta 036 limitata in funzione da questa mattina nel quindicesimo municipio per garantire lo scambio con le linee bus 024 e 036. Le due linee bus dallo scorso 7 marzo sono limitate a via della stazione di Cesano all'altezza di via Palatucci. Limitazione dovuta alla chiusura di via cesanense tra via Miotto e Cesano Borgo a causa del cedimento di un tratto di strada. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.